Il primo dei primi Panathlon non potevano mancare i riconoscimenti per l'amatore di Reggio Alghiero, partiamo dal Presidente Franco Badessi, un bel momento per la pallovare algherese. Certo, un bel momento, un premio prestigioso, noi già abbiamo letto in prima relazione in passato, abbiamo già ricevuto il Panathlon, ma quest'anno penso che sia, spero di buon augurio per tutto il campionato, per tutte le seconde organizzative. Ha premiato il Presidente, ma ha premiato anche il Giudice Marinaro, un premio speciale per lui. Sì, un premio inaspettato, un riconoscimento anche io ritengo per me prestigioso, perché veramente, oltre che come ho detto inaspettato, mi ha riportato a tutti quegli anni che ho vissuto allo spogliatoio, a vedere questi giovani promessi allo sportagliere, è una cosa bellissima. Grazie a tutti, complimenti al PAN.